salve a tutti amiche e amici eccoci qua di nuovo sul canale youtube di varahonda tv oggi con un video speciale in cui vi spiegherò brevissimamente velocissimamente tutte le novità che sono state inserite dalla piattaforma da sorare all'interno del gioco passiamo subito allo schermo successivo lo vedete qua nel frattempo ovviamente siamo live sulla piattaforma viola e eccoci qua lo vedete questo è sorare per chi non lo sapesse è un gioco che mette insieme foot football manager fantacalcio e raccolte panine si gioca con le nft ethereum mettete dentro nella block chain appunto si regge sulla block chain the state ethereum potete inserire anche direttamente i soldi attraverso il gioco non c'è bisogno che abbiate moneta virtuale precedente al vostro ingresso questo è il gioco lo vedete è diviso in football lo vedete in alto nba ed mlb questo è quello che c'è al momento sulla piattaforma ma la cosa importante è questa le novità che verranno inserite a partire dal 30 gennaio prima se foste entrati precedentemente avreste trovato rara la possibilità di vincere in all star raro 25 dollari 50 dollari avreste trovato nella competition questo nello star avreste vinto dovuto fare 205 250 punti adesso dal 30 gennaio potrete vincere la soglia facendo 250 punti in tutte le rarità limited raro super raro o unico e guadagnerete ovviamente a seconda della rarità un premio diverso 5 dollari 50 dollari 100 dollari 250 dollari potrete schierare però soltanto facendo 240 punti con i 5 giocatori che metterete in campo attenzione è stato appena comunicato nel community update che hanno fatto adesso quindi il 22 dicembre 2022 direttamente da assorare sul loro twitter che i premi delle diverse rarità saranno a scalare verso l'alto quindi se giocherete in limited vincerete delle rare potrete vincere delle rare se giocherete in rara potete vincere delle super rare e super rare potete vincere delle uniche ovviamente sopra le uniche non c'è nulla questo era l'update di questi giorni fatemi dire una cosa e poi torno ovviamente ai miei cari amici della live la questione è questa secondo me se avete un budget limitato questo è il momento giusto per entrare dentro assorare perché adesso con circa 200 dollari dollari insomma 200 euro diciamo si può entrare in game e diversi divertirsi e provare anche a raggiungere diciamo così il capped delle limited quello da 5 dollari a games week quindi piano piano potete sperimentare il gioco divertirvi nel frattempo provare anche ad accumulare un po di et e un po di carte è il momento in cui loro hanno deciso di semplificare il gameplay è tutto molto più semplice di quanto non lo fosse prima e di rendere il gioco molto più user friendly mi raccomando iscrivetevi al canale telegram della tribe che troverete giù qui sotto nelle informazioni venite a trovarci sui nostri canali viola insomma streamiamo tutti i giorni e ricordatevi anche questo sono a 15 referra dalla carta unica quindi se sei un nuovo utente usa il mio referra per iscriverti e comprando 5 giocatori in asta tu guadagnerai una carta limited e guadagnerò una carta limited anch'io tutto è qui sotto ciao a presto grazie